Musica No, perché li fanno tutti uguali dopo un po' Allora Adesso ci proviamo seriamente Questa è una batteria elettronica E questi sono dei pad Abbiamo messo un Mixed voice loop station Che fa più o meno così E dove ci sono tre suoni di batteria Che sono Quindi adesso Daremo vita alla nuova frontiera di spettacolo Suono più interpretazione E non è dello stesso Siete pronti? No È troppo facile Allora Quindi Cazzo non va bene così perché Ok Più Io mi sto incitando E tu non devi fare il video Ah mi sono dimenticato questo Allora Oh Dio